Innanzitutto mi preme ringraziare il presidente Campedelli perché mi ha dato la possibilità di rigiocare in Serie A e con lui ho condiviso dei momenti bellissimi, sia a livello personale che a livello sportivo. Il mio percorso parla chiaro, io non sono mai stato considerato un grande portiere, però sono andato sempre step by step. Sono partito dalla C2 e ci stavo, in C1 ci stavo, in B ci stavo, in A a medio-basso livello ci stavo, adesso sono qua per cercare di mettercela tutta per starci. Per me è un onore essere tornato qui e sicuramente darò tutto me stesso ogni giorno per migliorare e per farmi trovare pronto ogni volta che verrò chiamato a giocare. Per rispondere alla tua domanda dico di sì perché comunque ho fatto esperienze sia a livello calcistico che a livello di vita che mi hanno fatto crescere e naturalmente essere arrivato qui in questo grande club, in questa grande famiglia, mi darà la possibilità ancora di più di crescere sia a livello umano che come giocatore naturalmente perché in una squadra così si può imparare da tutti, dallo staff ai miei compagni che sono tutti comunque grandi campioni con una grande esperienza e quindi la mia risposta è sì e ogni giorno darò tutto me stesso per migliorare, per crescere e farmi trovare pronto. Grazie a tutti.